musica 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 carnavacciolo stiamo assistendo qui al cioccolato fondente salame casaloro e biscotto fatto con marmellina occhio di bue via stella ma avete mangiato? mmm che pulizia piatto da gourmet buono buono attenzione qui c'è l'upgrade si aggiunge al muffin al cioccolato fondente occhio di bue alla marmellata di albicocche salame casaloro più cioccolato alla marena ok potrei sentirmi male io per posto tuo vai se la mamma stampocca diventa Highlander ecco però non ci dobbiamo ci vuole una marmellata di corbezzo eh si perchè effettivamente è un vero di marmellata attenti con atti di vomito io non ci posso credere che gli piace è buono casaloro ma va a capire dai un pecorino pure un pecorino un pecorino 3.0 adesso c'è anche il pecorino e direi ci vuole vino per calare vabbè mettiamo il dip non è un problema le dirette non le faccio mai forbito un po' ti corteccia un pecorino secondo me è la morte tua la giusta tu toglie l'acidità toglie l'acidità alla marena quindi devo filmare finchè non vomiti a questo punto secondo me mentre torniamo indietro vedremo che a un certo punto sparisce vedremo qualche albero vedremo qualche albero per la prima volta in un certo punto sparisce vedremo qualche azzurro per la prima volta Grazie a tutti.